buongiorno a tutti ciao ragazzi ci ritroviamo in una versione particolare nuova anche inaspettata all'inizio dell'anno del del progetto comunitazione in accordo appunto con i vostri insegnanti abbiamo deciso di continuare il progetto attraverso delle delle video lezioni che saranno poi seguite da una parte di incontro incontro in digitale a distanza come in questi giorni sapete siamo costretti a fare un po tutti però mi fa piacere appunto risentirvi rivedervi e quindi ripartiamo con con il progetto insieme tratteremo alcuni temi non ve li svelo li vedrete poi volta per volta anch'io sono nuovo di questi strumenti quindi vi ringrazio per la pazienza che avrete nel così nell'ascoltare queste video lezioni e insomma come sapete per qualsiasi cosa sono a disposizione e quindi sia per dei rimandi se quello che stiamo facendo vi sta interessando piacendo o anche per dare suggerimenti su come su come farlo meglio è un'esperienza che stiamo facendo insieme condivisa il primo nucleo di lezioni chiamiamolo così di video lezioni di incontri insieme porterà con sé tutto il tema di più generale di comunicazione e quindi che cos'è comunicazione lo andiamo un po ripercorrere insieme dato che è passato un po di tempo ed è significativo ricordarsi che cosa sia questo progetto per noi che valore ha e poi andremo a vedere insieme con che metodo lavoriamo un metodo che può essere utile interessante per altre cose che già fate a scuola fuori dalla fuori dalla scuola e vedere gli strumenti insieme che possono anche questi essere interessanti sia per quanto riguarda le materie scolastiche che che vi trovate tutti i giorni a seguire e sia per la vostra vita personale userò il powerpoint e che vi farò vi farò avere al termine delle di questi incontri comunitazione comunitazione come sapete un progetto molto grande quando ne parliamo in classe lo diciamo sempre non siete l'unica classe è un progetto che coinvolge sette città vedete nella slide ho volutamente inserito appunto questa grafica perché coinvolge sette città avete settimo torinese moncalieri michelino la loggia grugliasco collegno rivoli insomma non viene fatto solo appunto la nostra classe 22 scuole medie e superiori e 84 classi quindi sono coinvolte molte persone molti ragazzi come voi molti insegnanti molte scuole molti educatori è un lavoro di comunità non a caso comunitazione mi sembra interessante ricordarci da dove dove partiamo dalle parole chiave un po che che guidano il nostro lavoro le parole come dico sempre anche in classe sono molto importanti hanno dei significati e quindi vanno vanno compresi altrimenti si usano in maniera scorretta impropria comunitazione come vedete comunità è la prima parte e questo co che vuol dire insieme no si usa collaborare cooperare qualcosa che si fa con gli altri insieme e poi c'è questa parte munità che deriva dal latino e che deriva dalla parola munus che significa dono quindi possiamo dire che la comunità è qualcosa in cui le persone sono tenuti insieme dal dono del qualcosa che fanno e danno agli altri vi volevo raccontare questa cosa quando cercato il significato perché mi ricordavo cosa significasse però metto cerco anch'io ho bisogno anch'io di ricercare e mi sono reso conto che munus non vuol dire solo dono quindi qualcosa che io ti do ma vuol dire anche impegno e quindi mi è sembrato molto interessante questo spunto e la comunità è qualcosa dove gli altri stanno insieme si donano a vicenda qualcosa ma soprattutto si impegnano nei confronti degli altri e questo è molto bello lo vediamo anche in questi giorni mi sento di aprire questa parentesi come vedete siamo in un periodo un difficile e state vedendo anche in tv oppure in giro in strada insomma nel condominio dove abitate quanto ci si stia il più possibile dando agli altri molti si stanno si stanno impegnando per dare qualcosa agli altri la solidarietà è un valore importante e poi c'è questo termine azione azione qualcosa di concreto che si fa si realizza io lo posso vedere è un qualcosa che che produce qualcosa vi ricordate il progetto al secondo anno ma se fate memoria di quello che è successo abbiamo realizzato insieme qualcosa di concreto e quindi comunicazione azione qualcosa che facciamo che rimane in questo gruppo in questa collettività in cui viviamo il sottotitolo dice per imparare a essere comunità ma devo imparare per essere comunità sì sì è necessario fare tutto un lavoro di apprendimento per imparare ad esserlo non è scontato anche se nasciamo in una comunità cresciamo in una comunità abbiamo bisogno di fare esercizio continuo un po quando pratico uno sport è la stessa cosa bisogna allenarsi continuamente a fare delle cose insieme a avere delle occasioni dove condividere perché importante perché lo diciamo in classe lo dicono anche gli insegnanti che partecipano al progetto perché è importante comprendere quanto anche se siamo siamo siete sto dicendo siamo sono un po più vecchietto anche se se siete giovani siete dei cittadini siete protagonisti della vostra città potete essere da modo vostro magari in maniera un po meno decisiva forse ma non credo di quanto fanno gli adulti anche loro protagonisti con voi della della comunità e poi ancora collegandoci a quello che è il termine azione bisogna fare esperienze insieme agli altri per essere comunità non basta essere cittadini dello stesso paese no appartenere alla stessa città alla stessa nazione ma è importante continuare a fare qualcosa insieme ogni giorno fare un pezzettino di strada insieme insieme si impara con i miei compagni con le persone che vivono il quartiere la mia città e quindi fare delle esperienze condivise parlavo prima di essere cittadini come cittadini abbiamo dei diritti lo sapete è una cosa che vi raccontano raccontato la scuola elementare vi raccontano a scuola media o vi hanno raccontato alla scuola media abbiamo diritti e doveri e comunicazione parte da alcuni diritti da un documento molto importante lo richiamiamo sempre quando iniziamo il progetto ed è la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza io vi ho messo anche un link per andarla a sfogliare ecco per capire ma di che cosa si tratta è un documento con diversi articoli un po come la nostra costituzione e quindi grazie a questo documento riusciamo a conoscere sapere quelli che sono i nostri diritti e anche a esercitarli esercitarli importantissimo l'articolo 12 in particolare come sapete è un articolo che ci dà spunto per il nostro lavoro di comunicazione perché questo articolo 12 dice gli stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e ancora poi dice a tal fine si darà in particolare al fanciullo al ragazzo nel vostro caso la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo concerne cioè è molto importante questa cosa per cui io posso dire la mia ho il diritto di dire la mia naturalmente ho il diritto di dire la mia e anche il dovere all'inizio della della slide ho scritto no diritti e doveri perché ho il diritto di dire la mia ma importante ho il dovere anche di ascoltare quello che l'altro è il compagno l'insegnante o chiunque io nella comunità incontro ha da dirmi mi vuole dire mi vuole comunicare esprimere le sue opinioni ed è un esercizio anche quasi diciamo prima dobbiamo fare esercizio è un esercizio molto molto importante a cui dobbiamo continuare ad allenarci non siamo mai abbastanza allenati ecco un po' il motto se vogliamo dopo il sottotitolo è cercare di essere ascoltati ma essere protagonisti attivi della comunità per cui non basta essere ascoltati e parlarne è sicuramente uno spazio importante un momento importante quello dello scolto e della condivisione però come sapete il progetto ha tre fasi che hanno tutte un significato ben ben preciso la prima come sapete è quella del laboratorio di cittadinanza io ho citato le tre fasi che abbiamo già vissuto l'altro anno insieme e che avevamo iniziato a vivere insieme prima di di questa emergenza e delle restrizioni che la accompagnano però ecco il laboratorio di cittadinanza è la prima fase come ricordate cioè si condividono le idee e le proposte interessante da cosa partiamo se vi ricordate un po la domanda che condividiamo in classe è ma cos'è che crea disagio fuori dentro la scuola cioè partire dai problemi da quello che non funziona che non ci piace che non ci piace pensando e decidendo insieme progettando il lavoro insieme e questo anche questo è importante perché solitamente si è un po abituati sia a scuola ma anche fuori che tutto quello che facciamo ci venga detto richiesto e invece qua c'è l'opportunità di dire vabbè condividiamo in deproposte su quello che non ci piace pensiamo insieme decidiamo insieme anche questo è un esercizio comunque molto utile appunto siamo vicini al 25 aprile in queste settimane c'è questa festività molto importante non è scontato scegliere decidere insieme e quindi molto importante continuare a farlo continuare a farlo sulle cose che ci riguardano è ancora importante non delegando ad altri ma assumendoci noi la responsabilità di quello che è la nostra comunità di quello che vogliamo fare per il bene della comunità in cui viviamo per sé e per gli altri e quindi un po ecco mi piace accostare queste tre cose con il le tre fasi laboratorio di cittadinanza i consigli di consultazione che erano iniziati i cantieri cittadinanza cioè realizzare qualcosa per sé per gli altri chiudo questa prima lezione e sperando di non essere stato troppo noioso e anche se ho parlato solo io come sapete non mi piace ma ecco qual è la particolarità che c'è una modalità un modo di fare le cose ed è la modalità del service learning questa modalità per cui imparo facendo servizio per la comunità e andremo a trattarla poi nella in una delle prossime video lezioni e soprattutto utilizzando degli strumenti interattivi e come sapete molto utili per pensare e analizzare quindi vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima video lezione sul tema service learning e su questo grande lavoro di comunitazione grazie e buona giornata